La girl 14enne di Bergamo e sei pedofili, mi dispiace cari amici tornare sulla questione, mi dispiace anche perché il pedofilo è malato, capito? Il pedofilo è malato, mi dispiace tanto, mi dispiace. Beh, una gara di soli 14 anni di Bergamo che aveva ricevuto materiale pedopornografico molto hard sul suo smartphone, era diventata strana, strana, strana. I genitori si sono accorti della stranezza di questa loro figliola di soli 14 anni e allora sono andati a dare un'occhiata allo smartphone della loro figliola di 14 anni e hanno visto cose molto brutte, molto brutte, molto brutte. Hanno visto immagini pedopornografiche, post pedopornografici e allora si sono rivolti alla polizia, alla polizia postale, alla polizia postale della Lombardia e alle forze dell'ordine. La polizia postale della 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 Lombardia e alle forze dell'ordine allora hanno fatto le loro brave indagini e hanno denunciato sei persone, hanno denunciato sei persone, capito? Ma questa guerra a 14 anni non era l'unica, non era l'unica perché queste persone poverette, poverette che hanno bisogno di essere curate e queste persone tendevano la rete, capito? E queste vicende mi fanno tornare indietro nel tempio, tanto tempio fa, quando io ero da poco approdato su YouTube e YouTube era dominato, dominato da quello che io chiamai lo staff maledetto, lo staff maledetto. Ci sono tutti i miei video che testimoniano quel lontanissimo tempio, quel lontanissimo tempio, quando io da me, da solo, mi sono messo a combattere contro questo drago, lo staff maledetto che era uno staff di pedofilia, di pedofili, che terrorizzava il web. Erano bravi, Dio come erano bravi, ma ci sono le testimonianze, ci sono le testimonianze, i miei lontanissimi video. E quando questo staff maledetto di pedofili si rese conto che io mi ero armato col gladio contro di loro, mi hackerarono il canale, mi hackerarono il canale, sparì il mio canale, capito? Perché erano bravi, perché i pedofili sono bravi, sono pure bravissimi hacker i pedofili, capito? Ma io andai avanti lo stesso, andai avanti lo stesso con YouTube, con YouTube, erano bravi questi pedofili hacker, erano capaci pure di mettere con le spalle al muro YouTube, con le loro capacità informatiche. Io andai avanti lo stesso col gladio, cari amici, col gladio, e alla fine ebbi la vittoria, sparì, sparì lo staff maledetto. Io lo chiamavo lo staff maledetto perché era un'associazione di pedofilia. Com'erano bravi, com'erano bravi, com'erano bravi, com'erano bravi, ma si erano imbattuti con Serafino Massoni, si erano imbattuti con Serafino Massoni, che è questo qua, questo qua, questo qua. Beh, guardate, le rose di cui vi sto parlando sono tutte testimoniate nei miei video del 2010, del 2010, di 11 anni fa. Beh, io sono prodotto su YouTube nel 2007, nel 2007, quanti anni avevo nel 2007? Sono nato nel 1940, nel 2007 avevo 67 anni, sono andato su YouTube a 67 anni, adesso ne ho 81, ne ho. E questi vicendi, questi vicendi di questa guerra di 14 anni, di Bergamo, irretita nella rete di un gruppo dei pedofili, mi fanno tornare in mente quel tempio lontanissimo, quando io mi scontrai con lo staff maledetto, lo staff maledetto, che battaglia cuenta, che battaglia cuenta, sul piano ovviamente informatico è, che battaglia tremenda, ma alla fine ebbi la vittoria. E perché ebbi la vittoria? Perché io sono Serafino Massoni, autore di tante opere, tra cui autore della Stimpe del Serpente. Beh, che sia chiaro, è la notizia di cui vi sto parlando, io ve la metto come l'ingere assunto di questo video. Una girl dei 14 anni, una girl dei 14 anni, capito? Beh, ok cari amici, ok, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.